talpa lo sapete che abbiamo pure una talpa pure una talpa ci abbiamo guarda guarda c'è un buco qua ora mi ci infilo io la prendo questa talpa piccola tutta la zampa da qua la prenderò prima poi buon pomeriggio vita andiamo di là che abbiamo lasciato a zio cristofer a quando a quando è venuto da milano e lo lasciamo pure solo prima c'è stata beatrice una settimana che è scesa anche lei da milano ora se n'è andata beatrice e c'è zio cristofer però zio cristofer qualche altro giorno e parte e poi restiamo soli poi ci abbiamo tra due mesi per una settimana altre due volontarie che scendono una da modena e una da roma